Ciao a tutti, oggi sono nella cucina di TestMade con Chris di Mother BBQ, un esperto del barbecue e oggi ci farà una ricetta tipicamente americana che può essere interpretata in diversi modi. Chris, ti racconta qualcosa di più sulla tua ricetta. Oggi lo farò per te è una porcetta molto semplice con le erbe fresche. Siamo a mettere un po' di barbecue americano e la smontare su un uomo. Siamo a mettere un po' di acqua. 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 Grazie. Grazie.